SABATO VENTINOVE APRILE Buongiorno e buon fine settimana. Alla Maddalena oggi bel tempo ma con cieli parzialmente nuvolosi. La temperatura massima è di 21 gradi, la minima di 12 e lo zero termico si attesta intorno ai 3.731 metri. La pressione al suolo è di 1.017 mB. I venti sono deboli e provengono dal nord-est, grecale. Il mare, sulle bocche di Bonifacio, è poco mosso. Passiamo ora alla rassegna stampa. La nuova Sardegna stoppa la fusione degli aeroporti di Olbi e Alghero, un danno per l'isola. L'addio a Davide e Calvia ma ora serve la verità. Avvistate 5 balene ad Alghero. In Sardegna il G7 dei ministri del lavoro. L'Unione Sarda. La ministra Sarda spinge E.T. La ministra Calderone rilancia il progetto per l'osservatorio a Lula. Porto Vesme. La società è per la chiusura degli impianti. Infine l'America Scap naufraga anche a Brindisi. Passiamo ora alla rassegna stampa trasmessa questa mattina dal Tg Sky 24. Ci l'augura di un buon sabato dalla redazione Scatigi 24 alle telespettatrici e ai telespettatori. Ci sono tante notizie. Oggi in primo piano sarà impossibile non parlare del DEF, del voto alle Camere, sia alla Camera che al Senato, sullo scostamento di bilancio dopo lo scivolone e l'irritazione di Meloni. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani perché poi sono tante notizie che trovate all'interno. Sul Corriere della Sera campeggia la bagara alla Camera, poi sì al DEF, PIL, l'Italia cresce più di Germania e Francia, Meloni l'economia va bene. Ora basta a Tafazzi, gli onorevoli a orecchie basse, tra liti e giustificazioni. Poi la vigneta di Giannelli ancora una volta, la linea primavera-estate qua, è ancora l'armo cromista che la fa da padrona. E poi la cronaca che arriva dall'estero, il raid sulle città ucraine e le astrage dei civili, usati missili e droni, decine di morti, anche bambini. C'è questa notizia della cronaca che ci porta a Milano, questa turista violentata alla stazione, è stato fermato un uomo e qui c'è il caffè di Massimo Gramellini che parla proprio di questo. Nei quartieri che sorgono intorno alle stazioni di Roma e Milano, i diritti delle donne sono sospesi dal tramonto all'alba e questo insomma è quello che è successo e lo vedremo ampiamente. La Repubblica qua, il taglio alto è su quello che sta accadendo sul fronte dei migranti, l'Ampelusa e 300 minori rimasti soli, lo vedremo. I sindaci smantellata l'assistenza per i più piccoli e poi l'Ucraina, il massacro dei bambini. Un data di missili russi contro i civili con il bilancio che purtroppo si continua ad aggravare. La ratifica del MES, il taglio centrale, quello principale, è dedicato all'Europa che assedia Meloni. Pressing perché l'Italia voti l'accordo è l'unico paese che manca, il monito dell'UE rafforzerebbe la fiducia degli investitori. Giorgetti che cerca di negoziare al Parlamento serve uno scenario nuovo, la Premier agli inglesi, gli stadi nel PNR evoluti da Draghi, reddito di cittadinanza ad agosto, taglio ai sussidi per 213 mila persone. Sulla stampa Meloni che sfida i mercati, qua la Premier che prova a tranquillizzare la City, spenderemo i soldi del PNR, la Garda, ratificate il MES e poi anche qui come vedete da Berlusconi a Schlein la Repubblica dei Narcisi. Andiamo a vedere il sole 24 ore, gli economici perché troviamo intanto il PIL italiano a più 0,5 nel trimestre, meglio di Eurozona e soprattutto di Germania. Meloni che dice l'economia oltre le stime sosterremmo chi produce ricchezza. L'Italia cresce, le imprese sono forti sul MES, patto di stabilità trattativa aperta e il pressing lo abbiamo raccontato. Sul quotidiano nazionale, qua siamo sul giorno, il taglio alto è sullo stupro a Milano in stazione, la centrale sotto assedio, ma il taglio centrale, la sorpresa PIL è l'Italia che batte i big europei e la preside americana davanti alla statua di Michelangelo che dice, meravigliosa. Io licenziata per il David, difendo l'arte. Andiamo intanto a vedere il giornale, dove troviamo l'ok al def, il caso che è rientrato. Ora il governo si prepara alle barricate della CGL, l'incontro sul lavoro domani e poi lo ricordiamo lunedì, questo CDM proprio sul lavoro. Milano da incubo, immigrazione e sicurezza, questa è l'apertura, donna stuprata mentre va a prendere il treno, fermato un irregolare. Il modello sinistra, l'integrazione salatace per l'APM, la stazione centrale è un far west. Su libero, sinistra scomunicata, lo schiaffo del Papa. Francesco in Ungheria condanna l'Europa fluida, l'ideologia trans, il diritto all'aborto. Costruiamo un'unione incentrata sui popoli, la Schlein, su Vogue, fa infuriare politici e giornali amici e questo, ripetiamo, lo vediamo ampiamente. Andiamo su invece il manifesto per occuparci invece di andare dall'altra parte, perché qua si torna in Ucraina. La strage di Uman, nella notte bombe russe si abbattono sulla cittadina di Kerkasi e in altre regioni dell'Ucraina 25 civili uccisi nelle loro case, fra cui i quattro bambini, l'Unione Europea, crimine contro l'umanità e Zelensky e Kuleba, che chiedono più armi per rispondere al terrorismo russo. Altre aperture su avvenire, un'anima per l'Europa e qui troviamo il viaggio del Papa, poi l'Ucraina e quello che sta agitando le cancellerie occidentali, non soltanto, salta la quinta tregua, si spara ancora in Sudan con quell'allarme che arriva dall'ONU e quelle conseguenze che si potrebbero estendere a tutto il resto dell'area. Il fatto quotidiano, ma scusatevi voi, questione penale e morale, si torna sulla trattativa Stato-mafia e Savoini-Russi, le sentenze non cancellano i fatti, gli ex-Rossi sono assolti, ma dissero loro di aver negoziato con i mafiosi. L'ex portavoce di Salvini è scagionato, ma trattò quei faccenderi di Mosca, 40 incontri, un contratto pronto, scrive il fatto. Il riformista, i giornaloni che coprono la mafia, la nostra battaglia garantista e poi fa il paio con quelle monetine, la nuova colonna infame, 30 anni fa, l'hotel Rafael contro Craxi. Sul domani, negoziato sul MES, rilancio del PNRR, così Meloni vuole far pace con la UE, adesso la Cina è davvero in campo. La telefonata, sì, Zelensky, che fa ancora discutere. Sul foglio, invece, si ritrova il viaggio del pontefice in Ungheria. Davanti a Orbani, il Papa benedice l'Europa dei popoli, condanna il gender, il sovranazionalismo astratto e l'infantilismo bellico, così appunto il pontefice. Sul mattino, sul mattino, per raccontarvi dell'attesa scudetto, l'attesa della città in vista del match con la serenità. Spalletti, isola alla squadra, è qui la festa, una Napoli veramente che sta attendendo il suo scudetto dopo tanto tempo. La verità, il Papa ungherese stronca l'Europa sovietica e il gender, Bergoglio, loda le politiche pro famiglia avversate da Bruxelles, anziché processario urbano Francesco Abudapest, mette sotto accusa l'Unione Fluida che nega le differenze, propone false libertà come l'insensato diritto all'aborto, così scrive la verità. Dicevamo, ci prepariamo per la festa del Napoli, ma non soltanto. Calzetta dello sport, la svolta Leao, telenovela rinnovo con il Milan, l'Inter, superpremio antidiavolo e poi chiaramente contro Molini uno spareggio per la Champions, il piano del Napoli per tenere Ossimène e poi insomma sicuramente poi vi farò vedere anche il resto, la maglia di Leclerc, la pole da non credere, Vlaovic, Chiesa, Futuro Juve e poi Mondo Napoli perché appunto scoletto dei domani, 200 paesi collegati in diretta a TV col Maradona, l'emozionante countdown per un favoloso evento atteso da 33 anni.